Un progetto che va avanti già da un po', ideato dall'istruttrice Katia Salute e da Angela Ciano, giornalista storico dell'arte, che coniuga la conoscenza della città allo sport. Il progetto di Street Fitness verrà incluso nell'iniziativa dell'Aquila Città Europea dello Sport 2022, con l'iniziativa Allena la tua mente, fitness tra i ricoli e le piazze del centro storico cittadino per aquilani e turisti, con tanto movimento, ma anche con l'illustrazione dei principali monumenti aquilani e con la storia della città. Ci sono cinque percorsi in centro legati alla storia della città e dunque il percorso dei quarti, quello dei monumenti più conosciuti, come il Castello La Fontana Luminosa, Borgo Rivera, Quarto Santa Giusta e l'Aquila Contemporanea. Il progetto di Street Fitness è attivo dal 2019, partito grazie al sostegno della Fondazione Carispac. Gli appuntamenti saranno una decina, due fine settimana al mese fino a giugno, poi il 27 agosto con la perdonanza con un percorso ad hoc, due a settembre e due ad ottobre, a portare avanti l'attività e l'associazione My Gym. È una bella attività perché anche durante questo periodo di Covid la gente l'ha apprezzato molto perché ha avuto la possibilità di fare dell'attività fisica in città con un ampio respiro senza magari preoccuparsi della mascherina, dei contagi eccetera. Poi siamo contenti perché è una bella attività, perché noi come associazione, come palestra siamo molto da sempre nello sport con il rugby, l'atletica, il tennis e quindi questa attività diciamo anche un discorso di attività motoria verso le persone che non fanno uno sport ad alto livello, però un'attività motoria, un'attività fisica per il benessere psicofisico di cui oggi si ha tanto bisogno. In conferenza stampa a Palazzo Fibioni, oltre alle ideatrici del progetto, anche l'assessore allo sport Vito Colonna è Francesco Bizzarri, presidente del Comitato Esecutivo Città Europea dello Sport, che ha sottolineato anche il valore turistico di iniziative del genere. All'attività fisica si abbina la riscoperta della storia dell'arte cittadina, con allegria e voglia di stare insieme, un ottimo modo per allenare mente e corpo. Se qualche anno fa avessi saputo che c'erano queste due professioniste con un interessantissimo, io dico, programma che loro fanno ormai da anni, probabilmente quando ho fatto all'Aquila i campionati nazionali universitari li avrei chiamati perché io ho avuto difficoltà a portare le mogli, le fidanzate, dei ragazzi, degli atleti che erano venuti proprio per far conoscere la nostra bellissima città. Per cui da questo punto di vista questo coniugare sport con l'arte è un'ottima iniziativa, mi auguro che ci sia una risposta importante.